Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Vore Divino e stretto la domana materna, guiderei tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà, così posso restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini. Attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, tu che sei amore, sia santificato il tuo volere, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo, sia gloria nei nostri cuori in terra. Donaci tre panni della vita, Nell'infinito eterno immenso tuo volere, insegnaci il tuo perdono, Per essere perdono, Per essere perdono ai fratelli, Donaci tre panni della vita, Nell'infinito eterno immenso tuo volere, insegnaci il tuo amore, Per liberarci dal volere umano, Padre, Tu che sei l'amore, Tu che sei il perdono, Tu che sei la gioia, Padre, Tu che sei la vita vera, Padre, Tu che sei la mia volontà, Dal libro di Cielo, Vol. 11, Capitolo 46, 5 febbraio 1913, Questa mattina il mio sempre amabile Gesù, Ad ombra e a lampo è venuto e mi ha detto, Figlia mia, Chi non fa la mia volontà, Non ha ragione di vivere sulla terra, La vita si rende senza scopo, Senza mezzi e senza fine. E' proprio come un albero che non sa e non può produrre alcun frutto, O al più frutti verenosi, Che avvelena sempre più se stesso, E avvelena chiunque imprudentemente li potesse mangiare. Questo albero non fa altro che rubare le povere fatiche dell'agricoltore, Che con stenti e sudori, Gli addintorno a zappargli il terreno. Così l'anima che non fa la mia volontà, Sta in continua attitudine di derubarmi, E di furti che mi fa li converte in vereno, Sicché mi addintorno a derubarmi, Mi ruba l'opera della creazione, Della redenzione e della santificazione a suo riguardo, Mi ruba la luce del sole, Il cibo che prende, L'aria che respira, L'acqua che la disseta, Il fuoco che la riscalda, Il terreno che calpesta, Perché tutto questo è di chi fa la mia volontà, Tutto ciò che è mio, È loro, Invece chi non fa la mia volontà, Non ha nessun diritto, E quindi mi sento continuamente derubato, Sicché chi non fa la mia volontà, Si deve tenere come straniero, Ero nocivo e fraudolento, E quindi è necessario incatenarlo, E gettarlo nelle carceri più profonde, E detto ciò è scomparso come un lampo, Un altro giorno venendo mi ha detto, Figlia mia vuoi sapere che differenza passa, Tra la mia volontà e l'amore, La mia volontà è sole, L'amore è fuoco, La mia volontà come sole, Non ha bisogno di alimento, Né cresce né decresce, Nella luce né calore, Sempre uguale a se stesso, Sempre purissima la sua luce, Invece il fuoco che simboleggia l'amore, Ha bisogno di legna per alimentarsi, E se la legna manca, Aggiunge anche a smorzarsi, Cresce e decresce, Secondo la legna che si mette, Quindi è soggetta di instabilità, E la sua luce è sempre fosca, Mista con fumo, Specie se l'amore non è regolato, Dalla mia volontà, Detto ciò è scomparso, E mi è restata nella mia mente, Una luce in cui comprendevo, Che la volontà di Dio, All'anima è come un sole, Perché le azioni che si fanno, Come volute da Dio, Formano una sola cosa, Con la volontà di Dio, Ed ecco che si forma il sole, La legna che mantiene questo sole, L'azione umana, È tutto l'essere proprio, Unito all'azione, E all'essere divino, Sicché l'anima diventa legna, E sa stessa, Somministrata dalla volontà divina, E questa legna non può mancare, Perciò questo sole, Non ha bisogno di alimento, Né cresce né decresce, E' sempre, E' sempre, E' uguale a se stesso, E' purissima la sua luce, Perché prende parte a tutto, E l'essere divino, E le legne divine, Non vengono mai meno, E non sono soggetti a fumo, Non mi spiego di più, Perché credo che il resto, Si comprende da se stesso, In riguardo all'amore, Capitolo 47, La volontà di Dio è oppio, Che addormenta l'umano, Nell'anima, Continuando il mio solito stato, Ed avendo fatto la santa comunione, Il mio sempre amabile Gesù, Mi ha detto, Figlia mia, La mia volontà, E' come l'oppio al corpo, I poveri pazienti, Dovendo subire un'operazione, Un taglio di una gamba, Di un braccio, Li addormentano con l'oppio, Con ciò non vengono a sentire, L'acerbità del dolore, E dopo svegliati, Si trovano con gli effetti, Dell'operazione fatta, E se non hanno sofferto tanto, La virtù è stata tutta dell'oppio, Tale è la mia volontà, E' oppio dell'anima, Che addormenta l'intelligenza, L'amore proprio, La propria stima, Tutto ciò che è umano, E non fa penetrare fino a fondo, Un dispiacere, La calunnia, La sofferenza, E uno stato di bene interne dell'anima, Perché l'oppio della mia volontà, La tiene come addormentata, Ma con ciò si trova gli stessi effetti, Gli stessi meriti, Anzi, O quanto li supera, Come se avesse sentito ben bene, Quella sofferenza, Con questa differenza, Che l'oppio del corpo si compra, E non si può usare spesso, Tutti i giorni, E se si volesse abusare, Resterebbe la persona stupidita, Specie se è di costituzione debole, Invece l'oppio della mia volontà, Lo do gratis, E si può prendere a tutti i momenti, E quanto più spesso l'anima lo prende, Tanta più luce di ragione, Acquista, E se è debole, Acquista la fortezza divina, Dopo ciò, Mi pareva di vedere persone a me di intorno, Ed io ho detto a Gesù, Chi sono? E Gesù, Sono quelli che ti affidai da qualche tempo, Te li raccomando, Vi gira su di loro, Perciò voglio formare questo nodo d'unione tra te e loro, Per averle sempre intorno a me, E mi indicava una in modo speciale, Ed io, Ah Gesù, Hai dimenticato la mia miseria e nullità, E il bisogno estremo che ho, Che farò? E Gesù, Figlia mia, Tu non farai nulla, Come nulla mai hai fatto, Io solo parlerò e farò in te, E parlerò per mezzo della bocca tua, Solo che la voglia tu fare, E che ci sia buona disposizione in loro, Io mi presterò a tutto, Ed ancorché ti tenessi addormentata nella mia volontà, Quando sarà necessaria ti sveglierò, E ti farò parlare a riguardo loro, Io mi dirizierò più in te, Sentendo di parlare nella veglia, E nel sonno della mia volontà, Bene, abbiamo, Alcune considerazioni molto forti di Gesù, Con cui si apre il primo dei due capitoli, E forti, Ma certamente salutari, E assolutamente fondate, Come vedremo, Anche se volte a farci riflettere, E poi abbiamo queste due splendide immagini, La prima riprende, Quello della meditazione di ieri, Sole e fuoco, O divina volontà e amore, E poi quest'altra, Questa simpatica, Ma assai, Profonda e significativa analogia, Che Gesù pone, Tra l'oppio, A quei tempi, insomma, Gli anestetici non erano molto sviluppati, Potremmo chiamarla comunque, L'anestesia del corpo, Ampliando un po', E lo spettro semantico di comprensione, E la divina volontà, Per quanto riguarda alcuni effetti, Del tutto peculiari che produce nell'anima, Che anche qui, Chi ne ha già fatto esperienza, Immediatamente riconosce e comprende, E se non si è fatta ancora esperienza, Di alcune cose, Segno che l'unione, Il legame con la divina volontà, È ancora carente, Piccolo, Embrionale, Incipiente, Non sufficiente, Insomma, Ecco, Allora, Detto senza mezzi termini, E in effetti Gesù, Non dice insomma le cose con mezzi termini, Chi non è, Chi non fa, Attenzione, Qui Gesù dice anzitutto, Quindi non è solo il, Qui non parla di chi vive nella divina volontà, Attenzione, Ma chi almeno non fa la mia volontà, Lo dice per tre volte, Figlia mia, Chi non fa la mia volontà, Non ha ragione di vivere sulla terra, Così l'anima che non fa la mia volontà, Puntini puntini, E poi conclude, Sicché chi non fa la mia volontà, Eccetera eccetera, Teniamo noi sempre presente, Questa distinzione, Ecco, Perché il fare, In qualche modo, La divina volontà, Quindi come atto di obbedienza, Volontaria, Personale, A ciò che Dio vuole, Questo è, Ciò a cui sono obbligati, 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 Certamente, Obbligati, Perché stanno i comandamenti, Insomma, E il resto, Certamente non costretti, Ecco, Perché le obbligazioni che dà Nostro Signore, Sono obbligazioni che devono essere riconosciute, E messe in pratica, Con atto libero e volontario, Da parte delle creature, No? Ma sono comunque vincolanti, Cioè, Santa Teresa diceva, Se non osservi dieci comandamenti, Volontariamente, Chiaramente, E non vivi in grazia, Non puoi accedere all'eterna salvezza, Questo è anche, Insomma, L'insegnamento comune, Della dottrina della Chiesa, Certo, Salve sempre, Tutte quante le circostanze, Concrete, E varie, Insomma, In cui, La persona, Proprio inizia a trovare, E quindi, Occorre, Evidentemente, Fare questi, Distingui soggettivi, Ma in generale, Diciamo che vige questo, Questo principio, E spiega, Cioè, C'è una modellazione molto, Molto semplice, Cioè, Che tutto ciò che l'uomo, Qui, In questo mondo, Usa, Vive, E' tutto di, Di nostro Signore, E' tutto suo, Cioè, La stessa anima, Il corpo, I nostri movimenti, Il fatto che parliamo, Sono tutti quanti atti, Che sono possibili, Per la divina volontà, Cioè, Io adesso sto parlando, E sto pensando, Perché Dio mi ha creato, E perché mi mantiene nell'essere, Perché le ricorde vocali funzionano, Perché, Per grazia di Dio, Non ho malattie al cervello, Insomma, Tali che lo inibiscano, Perché sto respirando, Perché il mio cuore sta battendo, E tante altre cose, Insomma, Che gli scienziati sapranno meglio di me, Queste sono, Le, Come dire, Le informazioni comuni, Che più o meno sappiamo tutti, Cioè, Tutte queste cose, Sono, Ininterrotti, E perpetui, Regali, Che il nostro Signore, Sta facendo a noi, Ecco, E, Qual è, Il modo, Diciamo così, Doveroso, Di sdebitarsi, È, Vivere nell'obbedienza, Di chi, Ti ha fatto, Tutti questi, Doni, Questo è il modo, Con cui gli si esprime, La, La, La gratitudine, Perché se tu vivi, In stato di nemicizia, Quindi, Di, Quindi di, Lontananza dalla divina volontà, Con colui che ti ha fatto tutte queste cose, Ti stai utilizzando, Ecco, Delle cose, Mentre, E, Te ne stai altamente infischiando, O peggio ancora, Disprezzando, O offendendo, Il loro autore, Questo, Da un punto di vista oggettivo, Certo che gli esseri umani, Non se ne rendono conto, Per cui, Speriamo che il nostro signore, Nella sua clemenza, I vari giudizi particolari, Ne tenga conto, Ma da un punto di vista oggettivo, Questo discorso, È assolutamente, Incontrovertibile, Non fa, Una minima piega, Cioè, Tu stai a casa mia, Ti comporti, Ti comporta di secondo, Il calateo, È un comportamento, Quanto meno, È rispettoso, No? Che diritto hai, Tu, Di bere dell'acqua, Che l'acqua, È una creatura, Dell'altissimo, Quando tu nemmeno, Lo riconosci come tale, Magari non sembra, Ma anche, Il signore della croce, Quando t'alzi la mattina, Come purtroppo, Speriamo di no, Ma c'è da, Da ritenere, Che non pochi, Insomma, Facciano, No? Quando c'è una situazione, Di totale, Non solo disinteresse, Indifferenza, Ma a volte anche, Sciocca, O pregiudiziale, A prioristica, Tendenziosa, Insomma, Che più ne ha più ne metta, Ostilità, Nei confronti, Non soltanto di Dio, Ma dell'idea stessa di Dio, Allora, Da un punto di vista oggettivo, Cioè, È un grande segno di, Maturità anche umana, No? Noi, Per capire bene tante cose, Per crescere anche su tante cose, Dottore mi imparano a metterci nei panni degli altri, Cosa che del resto Gesù nel Vangelo, Ci esorta a fare, Perché quando dice tutto ciò che volete che gli uomini facciano, Voi fatelo anche voi a loro, No? Quindi mettiti nei panni di chi ti sta dinanzi, E, Allora, Qui dobbiamo provare, Per quanto sia difficile, A metterci nei panni di nostro Signore, Come reagiresti tu? Se, C'è una persona che vive alle tue spalle, Cioè al cento per cento, Capito? Cioè, In tutto, Non c'è niente di tutto quello che ha, Che non sia stato un dono fatto da te, Questo manco ti calcola, Non dico dirti grazie, Ma proprio non ti calcola proprio, Anzi, Se è possibile, Te ne dice in sacca, E' una sporta, Pensiamo ad esempio a chi ha, La brutta abitudine di, Di bestemmiare, Che non sanno quello che bestemmiano, No, Ma comunque lo fanno, O di, Come dire, Calpestare a volte, Proprio in maniera grossolana, Anche i principi più elementari, Della legge di Dio, Certo che noi non possiamo prestare, Le nostre intenzioni al Signore, No, Che dice, Io lo fulminerei, Però, Da un punto di vista oggettivo, E' chiaro, E' questo è un comportamento, Assolutamente disdicevole, E Gesù dice, Chi non fa la mia volontà, Si deve tenere come straniero, Noceo e produrente, E quindi è necessario incatenarlo, E gettarlo nelle carceri più profonde, Dicendo, In teoria, Da un punto di vista oggettivo, Questo dovrebbe conseguire, Poi in pratica, Sappiamo bene che, L'amore e la misericordia di Gesù, Fa di tutto, Insomma, Per raggiungere l'anima, Per convertire il peccatore, Però Gesù sta prendendo un discorso, Diciamo, Teorico, Rebus extantibus, Cioè in questa situazione, L'unica cosa da fare sarebbe questo, Perché tu stai dinanzi ad un mostro, Di ingratitudine, E la gratitudine, Attenzione, Non è, Una opera di misericordia, Ma la gratitudine, Già altre volte, Voto modo di farlo notare, Come insegna San Tommaso, È una parte della virtù cardinale, Della giustizia, Cioè tu devi dire grazie, E ricambiare il bene ricevuto, Non è questo un opzionale, Ma sì, Se voglio dire grazie lo dico, No, no, Se tu hai ricevuto un beneficio, Il beneficio ti obbliga, Alla gratitudine, Se no, Se vogliamo parlare in termini umani, Sei un cafone, Se vogliamo parlare in termini morali, Sei una persona che ha commesso una ingiustizia, E quindi a questo dobbiamo pensarci, Perché fa parte della vita, Nella divina volontà, Tra le altre cose, Avere anche degli occhi, Che sono gli occhi della sapienza, Con cui si comprendono correttamente le cose, Se io ho davvero un bicchiere d'acqua, Cosa impariamo a fare? Prendo il ti amo di Gesù, Nell'acqua che bevo, Nell'acqua con cui mi lavo, Nel sole che è solto la mattina, Nell'aria che sto respirando, Nel cibo che prendo, Nel fuoco che mi riscalda quando ho freddo, Nella terra, Nella madre terra, Che mi consente di muovere i passi, E' così, Non è un modo di dire, O alcune pie considerazioni devote, Questa è la realtà oggettiva delle cose, Non è certamente assolutamente evidente, Come tutte le cose della fede, La fede per definizione, Sappiamo che non ha l'oggetto cose evidenti, Ma pur non essendo evidenti, Non di meno sono vere, Ecco, Ora spostiamo l'attenzione, Nel discorso sulla divina volontà, Che è stato già introdotto ieri, Quindi il primato della divina volontà, Sullo stesso amore, Proprio perché, Gesù spiega, All'immagine del sole, La divina volontà ha questa, Come dire, Stabilità intrinseca, Potremmo dire, Questa immutabilità strutturale, Questa solidità assolutamente inamovibile, Incrollabile, Come il sole, È luce, D'accordo, È sole, Mentre il fuoco, Simboleggia, L'amore, E l'amore, Cioè il fuoco, Questa è una facciata esperienza sensibile, Ha continuamente bisogno, Di legna, Per alimentarsi, E se la legna, Manca, Giunge, Anche a smorzarsi, Abbiamo già visto ieri, Le immagini che Gesù faceva, No? Quindi, Non è necessario, Riprenderle, Queste sono, E, Quindi, È necessario, Che la divina volontà, Sia nell'anima come un sole, Perché? Perché tutte le azioni, Che noi facciamo, Formino, Una sola cosa, Con la volontà di Dio, Attenzione, Ed ecco si forma il sole, Cioè queste immagini, Cioè l'immagine del sole, E dei tanti piccoli soli, Che si formano dalle azioni, Compiute nel divino volere, È un'immagine fondamentale, D'accordo? Nella comprensione, Di questo aspetto essenziale, Spiegato nel dettaglio, Nel particolare, Da Gesù, Quindi, La presenza della volontà di Dio, Dentro un'anima, Quindi qui siamo già passati, Dal fare all'essere, Nella divina volontà, È sole, E quindi questa deve essere, Sempre, Curata, Perché ogni azione, Che tu farai in questo modo, Sarà un piccolo sole, Ad immagine, Del sole, Divino, Che è Gesù, Mentre, Tutte quante, Le manifestazioni dell'amore, Che sono buonissime, Devono trovare, La regola, Oltre che l'alimento, Nella divina volontà, Specie se l'amore, Non è regolato dalla mia volontà, Dice, Cresce, Decresce, La sua luce è sempre fosca, Mista con fumo, Allora, Noi sappiamo, Nella divina volontà, Il cuore, Il centro, Il punto di convergenza, Dell'amore, Totale, È Gesù, Tantissime volte, L'abbiamo, Meditato, No? Ma, Attenzione, Nella divina volontà, Hanno posto e spazio, Vivo e attivo, Tutte le forme di amore, Bello e sano, Purché, Siano regolate, Dalla divina volontà, Perché, Una persona che vive, Nella divina volontà, Come la Madonna, È una persona che è tutta amore, Ma è un amore perfettissimo, Quindi, Un amore, Pieno, Operativo, Ardente, Efficace, E, Universale, Cioè, La Madonna, Per esempio, Amava San Giuseppe, Ma tantissimo, Certamente, Amava i parenti, Tantissimo, Amava, Come dire, Se si passa la spressione, Gesù in quanto figlio, Quindi, Con amore di mamma, Oltre che in quanto Dio, Ma non ne parliamo nemmeno, Amava il lavoro, La Madonna, Sicuramente sì, Amava, La sapienza, Ma è la sede della, Della sapienza, Amava, E, Gli animali, Il creato, Il creato, Poniamo, Con la Madonna, Secondo noi, Come, Che immagini ci facciamo, La Madonna, Si era sicuramente una casa, In un paesino, Campestre, D'accordo, L'asinello, Ce l'avevano sicuramente, La Sagra Famiglia di Nazareth, Che era la cavalcatura, Dei poveri, E come lo trattava, L'asinello, La Madonna, O le piante, Che c'aveva dentro casa, Tanto per farsi qualche esempio, No? Ecco, Queste sono tutte quante forme, Cioè, L'amore è sempre, In se stesso, Buono, Ma, Ma, L'amore alle piante, Era l'ostacolo, All'amore di Dio? No, L'amore allo sposo, Era l'ostacolo, All'amore di Dio? No, E questo si vede in tanti, L'amore a Gesù, Era l'ostacolo, L'amore di Dio? No, No, Perché, La Madonna ce l'ha dimostrato, Sotto la croce, Gesù glielo ha ricordato, Per esempio, Nell'episodio, Dello smardimento, E del ritrovamento, Di Gesù, Fra i traduttori, No? Perché quella cosa? Per ricordargli, Che l'amore, Verso Gesù, Puede essere totale, Infinito, Ma, Sottomesso alla divina volontà, Senza fiatare, L'amore tra Luisa e Gesù, Era grande, Ma Gesù, Io ho visto come, Continuamente, Educa quell'amore, A stare sottomesso alla divina volontà, Luisa smania, Io non vengo, Non vieni, Non mi lasci da sola, E Gesù, Stai buona, Perché se non vengo, Ci sta, Le nostre buone motivazioni, Quindi, Per te amarmi oggi, Significa rinunciare alla mia presenza, Dice, Ma come, Se rinunciare alla mia presenza, Non ti posso riempire d'amore, Mi riempi di amore diversamente, Quindi, Questo significa, Che tutti gli amori, Devono essere regolati, Dalla divina volontà, Nulla deve essere, Di ostacolo, Ma tutto deve essere, Come dire, Manifestazione, Di quell'amore, Che nasce, Dall'amore di Dio, Che è il primo frutto, Della presenza, Dalla divina volontà, In noi, E che tutto quanto, Mantiene nell'ordine, Nella misura, E nell'equilibrio, Quindi, E in questo senso, Si compie perfettamente, Il primo comandamento, Cioè il comandamento, Della carità, Che si ama Dio, Con tutto il cuore, Con tutta l'anima, Con tutte le forze, E il prossimo, Gli esseri umani, Certamente, Per amore di Dio, Ma anche tutto, Per amore di Dio, No? L'amore al creato, Nella divina volontà, D'accordo, Ma alcune follie, D'accordo, Che si fanno oggi, Nel mondo, No? C'è certi gruppi estremisti, Insomma, Animalisti estremi, Che, Che ne so, Trattano un animale, Che per carità, Va trattato benissimo, Va amato, E va circondato di cure, No? Perché quella è una creatura di Dio, Non bisogna fargli nessun male, Nessun modo, E cercare di fargli vivere, Una vita serena, Eh, Ma tu non puoi, Come dire, Fare, Chissà che cosa, Per un animale, E poi sei un abortista convinto, Insomma, Questo è un disordine, Questo qui, Per dire, No? È evidente, Ecco, Poi c'è quest'ultima immagine, Passando all'ultimo punto, Che è la volontà di Dio, Come oppio, Che addormenta l'umano nell'anima, Ma qui, Allora, Che cosa succede? Nella, Nella divina volontà, Si riposa, Cioè, Si sperimenta dentro di sé, Un habitat, Un mondo divino, Come avviene questa cosa? Ti arriva un dispiacere, E il dispiacere è sempre un dispiacere, D'accordo? Perché non è che, Quanto ha sofferto la Madonna, Noi dobbiamo sempre pensare, Sempre come parametro, La vita di Gesù e di Maria, La vita di Gesù e di Maria terrena, È stata una vita di una felicità, Per noi assolutamente inconcepibile, Ma anche di una sofferenza, Altrettanto inconcepibile, In questo mondo, Queste due cose vanno insieme, Ma cosa diceva, Già San Luigi e Maria Monfort, Già parlando di un'anima, Che fosse fusa completamente con la Madonna, Dice che, Le sofferenze, Le croci, Lei è la grande miticatrice, Dice delle croci, Cioè, Te le addolcisce, Te le rende più leggere, Con la sua presenza materna, Con il suo amore, Eccetera, Eccetera, E questo è verissimo, Ma San Luigi non sapeva forse, Che questa potenza della Madonna, Oltre che risiedere nel suo, Essere donna perfetta, E madre, Quindi innamorata, Santamente, Dei suoi figli, Dipende anche dal fatto, Che Maria stessa, Era fusa con la Divina Volontà, Allora, Se tu sei fuso con la Divina Volontà, Quel dispiacere, È, Un atto della Divina Volontà, Nei tuoi confronti, Quella calunnia, È, Permessa dalla Divina Volontà, Per il tuo bene, Quella sofferenza, È, Voluta da Dio per te, Uno stato di bene interne, Oggi questo il Signore ti chiede, E quindi, Questo bisogna viverlo, Quando si ha questa percezione profonda, Che questa o c'è o non c'è, D'accordo? E tutto diventa più leggero, Specialmente, Quando insieme a questo c'è, L'amore, Perché se una persona sa, È convinta, Ci crede, Che Gesù in questo momento, C'ha bisogno che io, Mi prenda con amore questa mortificazione, Perché serve una, E ne sarà contento, E lo faccio contento, E io lo amo, Ma altro, Ma mandamene centomila, Gli va, Gli va rispondere, Non diventa tutto quanto leggero, E, Cosa dice Gesù? Soffre molto di meno, Ma acquisisce, Non solo gli stessi meriti, Ma li supera, Perché? Perché ha un dolore offerto, In maniera, Un dolore offerto, E sofferto in maniera, Divina, Cioè, Fuso, Con la divina volontà, Quindi, Soffri di meno, E meriti molto di più, Attenzione, Soffri di meno, Cioè, Ma, Capito, Cioè, La capacità di soffrire, Diciamo così, È dilatata enormemente, Perché, Cosa dice sempre, San Luigi Monfort, Che cosa succede, A un animo, Devo della Madonna, Dice, Ciò che spaventerebbe, Qualunque anima, Difficoltà nel cammino, Sofferenze, All'anima, Devo della Madonna, Non li spaventa per niente, Vanno avanti come treni, Non ci hanno paura, Perché? Perché sentono, La potenza, Della sua protezione, Della sua vicinanza, Non perché si diventa, Superman, E c'è al tempo stesso, La perfetta, Consapevolezza, Che questa, Non è, Farina del proprio sacco, No, Questo dipende, Dall'oppio, Dall'anestetico, Dipende dall'oppio, Della divina volontà, Che come dice Gesù, È gratis, Non ha controindicazioni, D'accordo, Lo può prendere, In qualunque momento, Anzi, Quanto più spesso, L'anima lo prende, Tanta più luce, C'è di ragione acquista, Si addebole acquista, La potenza divina, Cioè, Quanto più, Quanti più atti, Si moltiplicano, Nella divina volontà, Tanto più, La nostra unione, Con essa cresce, Tanto più, Si fanno sentire, Gli effetti dell'oppio, E tanto più, Le nostre reazioni, Dinanzi, Agli eventi, Dolorosi, Della vita, Diventano, Sempre più, E divine, Per esempio, Insomma, Tutti quanti i santi, Concludo, Che hanno visto, La passione di Gesù, Dicono che Gesù, Non è che, Cioè, Non immaginiamo, Cosa significa essere, Cioè, Flagellati in quel modo, Disumano, Insomma, No? O trafitti i polsi, I piedi, Con dei chiodacci, Aguzzi, Insomma, Cioè, Ti stramassacra, Ti strappa, Tutti ridendi, Le cose, Ma Gesù, Mica, Mica gridava, Con forse nato, Eh? Ogni tanto, Gli scappava qualche gemito, Ma non grida, Cioè, Ma chi, Chi, Non comincerebbe a urlare, In maniera, Semplicemente per sfogare un dolore, Ma Gesù, No? No? Perché nel soffrire, Ha conservato, Diciamo, Esteriormente una grandissima dignità, Ma da dove gli viene una forza di questo genere, Di non urlare come un forse nato, Cioè, La carne di Gesù, Dice Sant'Ommaso, Non solo che era sensibile come la nostra, Ma era più sensibile della nostra, Perché era carne perfetta, Ecco, Quindi, Meditiamo, Ecco, Perché, Ecco, Avere gratis, Quando vogliamo, Insomma, Quest'oppio, Che ci renda, Grandi, E, Assorbitori, Ecco, Delle inevitabili prove della vita, Con meno dolore, E con molti più meriti, Insomma, È cosa, Che ne vale veramente la pena, Insomma, Abbiamo considerato tra le altre cose, Santa Vergine Maria, Ecco, Proprio, Alcuni esempi tratti della tua vita, E alcuni effetti, Già di una perfetta e vera devozione a te, Sono molto simili a quelli che abbiamo, Meditato oggi, Ecco, Aiutaci a vivere in modo tale che, Non rubiamo mai nulla al Signore, Ecco, Ma siamo i primi, Non soltanto grati, Ma anche riparatori, Ecco, Dei molti furti, Che incessantemente, La Divina Volontà, E il nostro Creatore subisce, Ecco, Oggettivamente, Dalle Creature, Ecco, Che possiamo imparare sempre a muoverci, Generando, Ecco, Non morte, Non tenebre, Ma soli in continuazione, E soprattutto, Ecco, Lasciando penetrare sempre più, Questo divino, Oppio, Della Divina Volontà, Per poter grandemente, Ecco, Meritare anche grandemente, Ecco, Accogliere, Con amore e con docilità, E vedere in tutto, La Divina Volontà, Ecco, Nelle inevitabili sofferenze, E prove della vita, Nella Divina Volontà, Nel nome del Padre, Del Figlio e dello Spirito Santo, Amo, Ti benedico per aiutarti, Ti benedico per difenderti, Ti benedico per perdonarti, Ti benedico per liberarti da ogni mare, Ti benedico per consolarti, Ti benedico per farti santo, Ti benedico, Dunque, Nella Divina Volontà, Nel nome del Padre, Del Figlio e dello Spirito Santo, Amo, Piatta aberti Maria